bene allora intanto buonasera a tutti e benvenuti questo è il terzo incontro di questa sessione stagionale diciamo tra l'autunno e l'inverno del duemila e ventuno e diciamo nelle precedenti edizioni ci siamo occupati degli elementi di trasformazione dei vari sottotipi abbiamo già completato il sottotipo sociale dei vari anna tipi e adesso stiamo occupando dei sottotipi sessuali abbiamo già ragionato un po sul il nove l'uno il due il tre sessuale e questa sera invece lavoreremo sul quattro sessuale diciamo due cose sul sul quattro in generale diciamo nel senso che ci troviamo sempre nella parte emozionale dell'enneagramma cioè il centro emozionale e quindi la parte inferiore dell'enneagramma nella parte superiori superiore ci sono le persone un po più pieni di sé gli eneatipi un po più pieni di sé nella parte inferiore ci sono invece gli eneatipi più carenziali e tra questi eneatipi c'è proprio il quattro che un po all'opposto del 2 il 2 se vi ricorderete ha la fissazione cioè la propria filosofia di vita che è la falsa abbondanza e nel quattro invece abbiamo la falsa carenza e come sentirsi vuoti carenziati e essere per questo in qualche modo in difficoltà la passione è l'invidia e l'invidia è proprio l'atteggiamento di confrontarsi continuamente con gli altri e che sono altri un po idealizzati poi alla fine e scoprire come dire di essere inferiore in qualche modo di essere figli di un dio minore e quindi questo fa arrabbiare molto il na tipo 4 e che gestisce la rabbia in modo diverso noi ci siamo già occupati del sociale che ha come passione la vergogna mentre il sessuale ha come passione proprio l'odio l'odio e la competitività in qualche modo cioè vuole decidere chi sta sopra e chi sta sotto insomma no quindi è sempre un po in concorrenza ed è competitivo con gli altri in generale quello che possiamo dire sul 4 è che sono come se fossero un po dei bambini richiedenti con modalità diverse e in particolare il 4 tende a essere molto combattivo molto forte quello che punta i piedi e vuole le cose con forza come se come dire più più urla e più ha diritto in qualche modo ad essere amato qui adesso noi io vi racconterò alcuni aspetti degli elementi di trasformazione del quadro sessuale che sono ripresi da questo libro di claudio naranco che si intitola esperienze di trasformazione con l'enneagramma e questo articolo in particolare è stato scritto per l'appunto da un quattro sessuale che si chiama proprio anni scevro di origine francese poi si è spostata in spagna e le prime cose che lei ci trasmette in questo articolo che invito tutti a leggere perché anni ci regala proprio l'interiorità ce la descrive in modo esemplare l'interiorità proprio di un quattro sessuale e ci descrive proprio il suo cammino di trasformazione e la prima cosa che lei dice è che il quattro sessuale deve diventare consapevole che quello che lui pensa essere come dire la sua modalità autentica no che è quella poi di come dire un po aggredire gli altri fare delle sceneggiate anche improvvise perché il quattro poi anche degli sbalzi d'umore abbastanza repentini tutto ciò non è spontaneità o autenticità come nel inconsapevolezza 4 ritiene essere ma in realtà è proprio l'espressione dell'odio e della competizione di cui il quattro deve diventare consapevole perché per lui sembra normale e tranquillo così come dice l'odio è come dire una sorta di di dipendenza come se fosse una droga perché esprimere l'odio con veemenza aggredire verbalmente o fisicamente perché poi quattro sessuali sono anche diciamo claudio diceva che sono i più violenti del del negramma porta a una sorta di euforia quasi di felicità per qualche per qualche istante poi ovviamente arriva il tormento interiore no per quello che che si è fatto insomma però la cosa importante oltre a questi due aspetti è l'idea di fondo del 4 perché 4 si sente il bambino cattivo sostanzialmente no quello che è sempre stato additato in questo modo e questo nasceva da che cosa nasceva un po dalla protesta per il fatto che non era lui il preferito non andavano a lui come dire le attenzioni e l'affetto dei genitori magari andavano un fratello ed è qui che nasce proprio la contraddizione del del quadro sessuale questa protesta poi ovviamente finiva per essere il bambino cattivo della situazione che poi nel corso del tempo come dire crea l'idea di avere un mostro interiore insomma no quindi in questo senso qui e ed è l'idea proprio di uscire da quest'idea no e lei stessa per esempio un altro elemento le diceva scuola fatto questa esperienza del sat ha avuto come dire per tanti anni la possibilità anche di dialogare con claudio naranco e il sap per lei poi era diventata la famiglia ideale e questo aspetto dell'ideale è un punto importante no del processo sat no e del quattro sessuale cioè ideale nel senso da contrapporre la propria famiglia reale come fosse una sorta di risarcimento insomma e quindi che ovviamente un po una credenza infantile l'altro elemento che ostacola in qualche modo il cammino di trasformazione è proprio una sorta di pigrizza intellettuale cioè il quattro fa fatica a fare le cose con costanza sente una resistenza allo sforzo costante no troppa fede nell'improvvisazione e invece lei dice il quattro sessuale deve sviluppare una sorta di perseveranza per poter andare in profondità e andare a cogliere quali sono poi le radici del vuoto del dolore da dove poi nasce l'odio prima di tutto contro di sé ma poi anche contro contro gli altri e lei dice sostanzialmente che il processo di autorealizzazione passa attraverso tre elementi il primo è proprio la frustrazione il secondo è la sdrammatizzazione e il terzo elemento è invece la compassione la frustrazione perché perché ovviamente è un po come se il quattro sessuale prendesse per veri i propri desideri e quindi nel momento in cui si accorge che le cose non sono come se le era immaginate quello è il momento in cui il quattro sessuale parte con la veemenza sostanzialmente e quindi è come se immaginasse una sorta di ideale di sé e della propria vita e quando si rende conto che le cose non stanno così questo crea un po questo impulso come dire un impulso all'autodistruzione di sé e a volte anche delle persone che gli stanno vicine e quindi ovviamente il processo di autoguarigione passa attraverso la cura di sé e come dire l'imparare a fare le cose concrete perché uno dei problemi del quattro è che quando si avvita poi non riesce a concretizzare nulla mentre il fatto di cominciare a fare anche cose pratiche anche cose della propria vita che rifugio un po no perché lei dice ho compreso che per tutta la vita mi sono inventata un sacco di storie ho nutrito dentro di me leggende mi sono inventata ruoli e ho abbellito la realtà per sopravvivere all'odio che avevo per me stessa e per il fatto di essere imbranata fisicamente essere stata povera inadeguata e paurosa quindi è un po come se diciamo estremizzando questo concetto ci fosse una sorta di di fantasia un po sovra ideativa no cioè nel senso di scarso contatto proprio con la realtà è come entrare in un personaggio e immaginare immaginare immaginarselo vero nella propria realtà ma questo ovviamente per fuggire a che cosa al proprio dolore interiore sostanzialmente e un altro elemento che caratterizza il quattro è proprio come nel quattro ci sono anche tanti artisti no come abbiamo detto in passato cioè che riescono in qualche modo a trasformare la sofferenza in poesia letteratura alcuni diventano pittori fotografi eccetera però è proprio questo concetto dell'originalità anche nel modo di vestire perché quattro sessuali particolari si vestono in modo molto originale ma questa originalità in realtà è un'altra versione dell'odio cioè è un altro modo per dire per accusare gli altri di scarsa sensibilità per accusare gli altri di come dire adeguarsi normalizzarsi e mentre lei in qualche modo spicca come dire per la propria originalità e un altro elemento se volete del narcisismo è il fatto che poi il quattro non vede l'altro perché nell'incontro con l'altro proprio perché ha in mente questo questa modalità di come deve essere allora si vede nel meravigliare l'altro nello stupirlo nel fare citazioni colte eccetera ma in tutto questo in realtà poi l'altro non esiste e l'altro aspetto è questo che con questa modalità poi in realtà il quattro non riesce mai a entrare veramente nel proprio dolore perché come spesso abbiamo detto il fatto di entrare in contatto col proprio dolore di starci senza avversione questo diventa un modo anche per elaborarlo il dolore mentre in questo caso l'idea è che quando il quattro tocca il dolore poi fa una fuga nel senso che va in questa drammatizzazione delle cose e per cui in realtà non si porta a casa nulla sostanzialmente e un altro elemento caratterizzante è proprio quello della contradipendenza perché è un po' come se il quattro non fosse uscito dall'adolescenza il quattro sessuale nel senso che vedo bianco o nero è un po' come se lui dicesse o i meriti della mia autorealizzazione sono miei oppure non mi sento affatto realizzato cioè non riesce a vedere dei grigi intermedi insomma e ovviamente questo poi lo porta a sentire o in una situazione di potere soprattutto quando drammatizza questi attacchi eccetera oppure si sente come dire l'ultimo degli ultimi quello senza talento e questo però poi diventa un altro motivo per un ulteriore e successiva aggressione e tra l'altro un buon esercizio per un quattro è anche quello di imparare a mettersi nei panni dell'altro e sentire com'è essere aggredito nel modo in cui il quattro aggredisce oppure nell'ascoltare i feedback degli altri senza doversi difendere perché poi il quattro quello che dice è sì è vero io sono sgradevole ma tu sei peggio di me cioè un po' come aggressione proprio verbale e quindi rimane sempre però in questa sua modalità proprio in cui questi eccessi drammatici sono in realtà attacchi di paura nel non come dire nell'evitare di arrivare a toccare profondamente se stesso insomma e quindi diciamo che come dire imparare a calmierare questa drammatizzazione imparare a chiedersi quale sarà l'effetto come dire di questa mia drammatizzazione di questa mia esplosione violenta quanti nemici mi procurerò e che cosa accadrà dopo perché è vero che il quattro sessuale nel momento in cui esplode sente un'euforia quasi come se fosse felice ma poi in realtà c'è un continuo tormento insomma perché sente che c'è qualcosa che non va anche perché poi gli altri ovviamente come dire se il bambino che urla più forte come dire in qualche modo viene nutrito un po' di più e può essere vero nell'infanzia in realtà poi nell'età adulta se uno si comporta con questo modo viene un po' rifiutato e anche questo rifiuto, questa frustrazione poi diventa l'ennesimo motivo di un'ulteriore aggressione e quindi è un po' come dire che riconoscere questo e accedere alla compassione che vuol dire comprendere che ciascuno di noi ha una storia, un percorso di vita e non c'è qualcuno che è meglio di qualcun altro ma semplicemente tutti abbiamo punti di forza, di debolezza e che se li accogliamo, li accettiamo e accettiamo anche come dire la nostra fragilità che questo è il punto debole del quattro sessuale se ci umanizziamo allora questo può dare come dire un impulso a una trasformazione però questo è un percorso come dire molto difficile da potersi fare ma che può avvenire proprio attraverso diciamo una maggiore consapevolezza e un accesso compassionevole cioè imparare ad amare se stessi anche per le proprie difficoltà bene, dai, io mi fermerei qui e adesso spengo la registrazione e poi proseguiamo grazie a tutti